Ciao ragazzi, sono Crax e bentornati nel canale. Oggi siamo tornati nella Road to Magma Wolves, nell'episodio numero 9. Come promesso, in questo episodio vi ho portato ben 4 mura di livello 11. Vi porterò 4 mura di livello 11. Sinceramente non so se nello scorso episodio siamo arrivati a 2000 like, perché lo sto registrando prima dell'uscita. Spero ovviamente di sì, ma anche se non ci siamo arrivati, grazie lo stesso e vi porto comunque 4 mura. Prima di iniziare il video voglio salutare Baffi Chiumo di Stinghiolari, Jumbo di Captain Pompeo, Scana di Machete Crew, Luca Zanandrea di Decima Mas e Evi di Mad in Bali. Grazie ragazzi del supporto. Eccoci qua nel mio villaggio. Come vedete ho più di 8 milioni e quindi faremo ben 4 mura di livello 11. Abbiamo finito il perimetro centrale, quindi probabilmente inizierò qui il settore questo in basso, questo mini settorino della difesa aerea. E vi ringrazio se siete arrivati ai 2000 mi piace. Siete davvero epici. Oggi siamo nel clan CDA, questo ragazzi è un clan davvero forte. Nel frattempo faccio il saluto, live con il 3 fa molto swag. E vi faccio vedere il clan, ragazzi questi hanno 155 guerre vinte. Mi raccomando se siete degli ottimi player potete fare richiesta qui, perché 155 guerre vinte non sono dei tutti i giorni, cioè cazzo sono parecchie guerre vinte. E vi faccio vedere il registro, guardate che spilza di verdi che hanno. Ancora sono livello 7 perché le startano da pochi player come facciamo noi. Come vedete da 10, da 15, alcune anche da 20, 25, però la maggior parte sono da pochi player. Ottimo registro, molto molto verde e faccio un saluto generale a tutti. E considerate che questo clan sotto nei commenti era arrivato a circa 20 mi piace sotto l'episodio 6 o 7, ora non mi ricordo, un qualcosa di incredibile. Come vedete sto facendo 3 bombe contemporaneamente, sono tantissime, ne rimane solamente una di livello 4 da fare qui al centro del villaggio e poi mi sembra dobbiamo fare anche le bombe nere, sì che costano 4 milioni e quelle rosse. No, quelle rosse le abbiamo già fatte, quindi rimangono solamente le bombe nere. Gli scheletrini ce li abbiamo tutti maxati e mi sembra di avervi detto tutto su questo villaggio. Prima ragazzi mi hanno attaccato, mi hanno devastato, poi dopo vi faccio vedere l'attacco, mi hanno devastato tutto, era un 56% ma mi ha preso tantissime risorse, a parte vabbè il fatto che sono strapieno, però dopo lo vediamo insieme. Iniziamo subito andando a fare due mura dove, vi dicevo prima, qui sotto sul mini settorino, una a sinistra 4 milioni d'oro e una a destra 4 milioni di risier. Abbiamo già di mezzato i depositi, non è possibile ragazzi, non è possibile che costano così tanto. Vi faccio vedere le truppe, allora abbiamo sempre Barbara Archeri e Goblin sono devastanti. Il prossimo upgrade a questo punto, mi sa ragazzi che saranno gli spacca muro perché ho seguito un po' il sondaggio, hanno un dominio totale su le pozzini del gelo, però ancora si tratta di aspettare 9 giorni, quindi magari quando avrò gli spacca muro a livello 6 li aggiungerò all'esercito base. Nel castello del clan mi hanno donato un drago di livello 4, cercherò di utilizzarlo al meglio, sarà davvero utile per farmare. Questa volta ho le pozioni, 5 pozioni del fulmine, abbiamo Re Barbaro di livello 34. Andiamo ad attaccare e vediamo cosa troviamo, spero un bel inattivo davvero. Cioè sempre così ragazzi, è sempre così, un 500.000 nei primi due skip, non va bene, è troppo forte, un TH11. Oddio mio l'ho trovato finalmente ragazzi, sto cercando da un'ora. Finalmente un TH9 inattivo, ora lo devasto proprio violentemente con i miei Barbaretti. Partendo sempre da qui in basso a sinistra, ci prendiamo quei due estrattori di Elisir, scusate, e li prendiamo velocemente con alcuni Goblin. Molto bene, uno preso e l'altro pure. Ci spostiamo di qua con altri 4-5 Goblin, prendiamo questa di destra, dovremo farcela tranquillamente, si presa, e ci spostiamo qui in alto, guardatecela tutte di fuori. E ovviamente alcuni Barbari e alcuni Arcieri. Devastiamo tutto, erano 5 in fila, 3 miniere e 2 estrattori, prese. Rimane i ragazzi, anche quella interna, quella interna è leggermente tosta da prendere. Probabilmente ci butto i fulmini perché andrei a sprecare troppe truppe, magari ci faccio un altro attacco dopo, vediamo. Comunque distruggiamo le ultime 3, con sempre Barbari e Arcieri molto molto easy. Se non erro, quella miniera dovrebbe contenere 100.000. Una miniera di livello 12, completamente piena, dovrebbe contenere 100.000. Se utilizzo i due fulmini, dovrei riuscire a devastare praticamente tutto. Vediamo, eh, utilizziamo i due fulmini molto molto tattici. Sulla miniera dovrebbero rimanere circa 38.000, no, 58.000. Quindi un po' di meno, 80.000 aveva quella miniera. Facciamogli fare il 30% così ha il tempo di ricreare le risorse all'interno delle miniere e degli estrattori. Infatti ragazzi, questo è un consiglio che vi do per trovare, per aumentare la quantità di inattivi nel gioco. Fate sempre il 30% così gli si attiva lo scudo di 12 ore e loro, gli inattivi, hanno 12 ore per ricreare tutte le risorse. Altrimenti trovate quegli inattivi scarsi che vi danno magari 70.000 che vengono attaccati di continuo perché non hanno lo scudo. Chiudiamo la battaglia e a questo punto, ragazzi, mi sa, facciamo il secondo attacco. Ho farmato abbastanza, è stato un buon attacco. Facciamo il secondo attacco, però io scendo di Lega perché non mi ero accorto di essere a Toro 1. Ecco perché non trovavo assolutamente niente. Torno a Toro 2 e ci vediamo per il secondo attacco. Truppe pronte, siamo a Toro 2. Spero questa volta di trovarlo leggermente prima perché se no, cioè, ci ritroviamo come adesso in pari di risorsa come siamo partiti. Andiamo all'attacco, vediamo il primo e il secondo. Questo fa abbastanza Sky, fosse un TH10. Vediamo il secondo TH9, ma non va bene. Ragazzi, facciamo questo. Non ha tantissime risorse, ma più che altro per l'elisir nero. Ha 2.359 ed è completamente attivo, quindi dovrebbe essere tutto all'interno delle trivelle. Lo facciamo molto molto easy e andiamo subito ad attaccare. Abbiamo tutte le truppe, quindi possiamo prendercela molto comoda. Barbari, prima degli arcieri, dietro gli arcieri così tattici, dato che ha tutte le miniere e gli estrattori completamente esterni. Ok, l'abbiamo presa e ci spostiamo in alto così prendiamo le trivelle e ci stanno dando molto nero. Abbiamo già preso 300, le distruggiamo tutte e poi ci spostiamo anche nella parte alta per prendere tutto l'elisir. Questi tre estrattori manca davvero poco nelle trivelle. Dai cazzo, prendiamo queste trivelle. Presa la prima e presa anche la seconda. Rimane 1.353 che probabilmente sono all'interno della trivella questa centrale e ora ci spostiamo sul lato questo qua di destra. I barbari me li risparmio perché magari se vogliamo fare una sorta di kill squad, corre barbaro, drago eccetera, possiamo utilizzare bene i nostri barbari. Quindi distruggiamo le tre miniere ed entriamo a questo punto all'interno del villaggio. Io proverei a sfondare qui in basso mandando i miei barbaretti, i miei arcieri e una volta che abbiamo fatto un po' di pulizia mandiamo re barbaro seguito dai goblin. Il problema è che ha la difesera di livello 6 proprio lì purtroppo però se mandiamo il nostro drago leggermente defilato e dato che il re barbaro è in quella posizione dovremmo riuscirci molto molto facilmente a buttarla giù. Spero proprio di sì utilizzando magari l'abilità al meglio possibile però ecco la difesera che spara il drago di livello 4. Ah c'è quella pure di sopra, no che spica ragazzi. Però dobbiamo esserci, perfetto, distruggiamo tutta quella zona. Se gli arcieri andassero sulla, vabbè abbiamo il re barbaro ragazzi non ci sono problemi, il re barbaro sta facendo il delirio insieme a goblin. Prendiamoci subito la trivella di lisir nero, purtroppo non riusciamo, ah no abbiamo fatto pure una stella, cioè dicevo non riusciamo a fare una stella ma l'abbiamo fatta. Mando i miei goblin dritti dritti sulla trivella di lisir nero così non abbiamo nemmeno sprecato i fulmini. Quindi perfetto abbiamo preso tutto l'elisir nero che mi serviva e mi dovevo rifare per l'attacco che ho subito prima e abbiamo fatto anche una stella dato che c'era il municipio esterno. I goblin infatti sono andati in quella direzione. Mancavano 77.000 che sono immaginate ragazzi all'interno della miniera. E mi sa che qui facciamo anche un altro scambio elisir barra oro con due fulmini ci prendiamo 77.000 d'oro che sono all'interno di questa miniera di livello 12. Lo facciamo, facciamo questo scambio che secondo me è più che buono dato che sono in vantaggio con l'elisir, ero in vantaggio con l'elisir. 8 goblin come li possiamo mandare qui vediamo se riescono a distruggermi il muro, non ce la faranno mai 8 goblin. Non ce l'ha fatta distruggermi il muro purtroppo. 47% chiudiamo la battaglia e ci siamo portati a casa un discreto bottino di oro, di elisir un po' meno, però l'importante era l'elisir nero. Davvero ottimo 2356. Torniamo al villaggio e possiamo andare con gli upgrade, anzi prima vi faccio vedere il replay che ho subito. Registro difese mi ha preso ragazzi 325.000 quasi 26, 240.000 e 3488 di elisir nero. Probabilmente ero inattivo perché avevo anche qualcosa all'interno del miniere, penso. Vediamo subito il replay, non ne sono sicuro. Sì, infatti avevo anche qualcosa all'interno degli estrattori e nelle trivelle e nelle miniere. Come mi attacca? Un Archer Queen Walk con quei 4 curatori, oppure non lo so, questi 20 giganti sono devastanti, a livello 7. Vediamo come li utilizza. Sta aspettando, quindi sta meditando su come attaccare. Parte dall'alto per non so cosa fare. Parte dall'alto con tutti i giganti, tranne uno, manda un curatore, manda i soreali, il re barbaro gira, quindi era perfetto. E la regina è entrata all'interno del villaggio. Non aveva nemmeno le bombone giganti, quindi probabilmente anche quello è stata una cosa negativa per il mio villaggio. Escono le trappole di scheletri, ma con tutti quei giganti senza niente che gli ostacola, soprattutto senza truppe nel castello del clan, eccetera, è stato davvero facile per lui andare a distruggere tutto. Ovviamente si cura con le pozzine della cura, pozzine del veleno per gli scheletrini e la regina tranquillamente riesce a prendere l'isir nero e più risorse possibili. Considerando che ancora l'abilità è una pozzine della cura, ovviamente andrà a prendere magari qualcosa d'oro, come vedremo proprio ora, altra pozzine della cura per salvaguardare i giganti che stanno tangando il mondo, mentre la regina fa tutto il lato, in basso a sinistra. Utilizzerà ovviamente l'abilità, prende il deposito d'oro e chiuderà a questo punto l'attacco con 325.000 d'oro e poteva ancora razziarmi 110.000, 194.000 e un po' di elisir nero. Peccato per quelle risorse perse, ma questo è Clash of Clans, quindi è giusto così. Andiamo subito con gli upgrade, se no questo video non finisce più. Sempre da sinistra con 4 milioni d'oro, ci facciamo il muretto di sinistra e a destra con 4 milioni di elisir. Vi faccio vedere il numero esatto di mura, rimuoviamo tutto e siamo a 56, ne mancano 19 per poi farne mancare altre 200, quindi a voglia ancora. Torniamo al villaggio e possiamo chiudere il video. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio fino alla fine, vi ringrazio per tutti i mi piace che lascerete, se riarriviamo a una buona cifra sarebbe davvero ottimo per il supporto del canale e il sostegno. Saluto tutto il clan CDA e vi invito a farci un salto se volete magari visitarli e conoscerli. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Facebook, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Ciao!